Grazie per essere stata prima Veronica, un piacere averti come ospite, una puntata velocissima insomma subito il finale, spidi, concentrati e andiamo a leggere insieme e portati a casa questi 1200 franchi. Secondo i dati dell'ufficio cantonale di statistica, in Ticino nel 2015 si sono sposate più donne tra 45 e 49 anni, tra i 35 e i 39, tra i 25 e i 29, tra i 20 e i 24. 3, 35 e i 39 al primo e quindi tra i 25 e i 29. Vediamo la verifica, in prima posizione con circa 380 donne tra i 25 e i 29 anni e poi 35 e i 39, circa 200, tra i 20 e i 24 circa 150, tra i 45 e i 49 circa 100. Veronica grazie, comunque che amore significa sempre a qualsiasi età, amici!